Gli assessori all'istruzione Maura Striano e all'ambiente Vincenzo Sattagada hanno ricevuto a Palazzo San Giacomo una delegazione di studenti dell'Istituto Tecnico Giordani Striano, accompagnati dalla professoressa Patrizia Cardone. Gli allievi partecipano al progetto Erasmus, incentrato sulla sostenibilità ambientale Stealing Our Future. È un momento che può solo arricchirci così come ha arricchito noi e sicuramente avrà arricchito anche i ragazzi napoletani che da una settimana si stanno confrontando su tematiche che rappresentano una nuova idea di futuro. Quando si parla di futuro siamo sulla strada giusta e l'amministrazione napoletana è sempre presente in queste circostanze. Ci sono vari meeting che si fanno nel corso del progetto europeo e questo è l'ultimo meeting che viene fatto ed è stato fatto qui a Napoli. È particolarmente significativo che i ragazzi si possano poi dedicare a una riflessione ma anche a un impegno concreto, alla rilevazione di buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale. L'invito che ci è stato fatto di ospitare questa delegazione è per me stato particolarmente gradito perché una delle scuole, la scuola italiana partner in questo caso è il Giordani Striano che è titolata mio padre.